Allora ragazzi, quanti di voi in chat sono contenti che facciamo un'oretta e mezza di BG? Chi è favorevole e chi è contrario? Non vedo contrari Contrario Però Buzzi, io mi ricordo di te, c'è quello che dice che il latino bisogna studiarlo a scuola E mi sei contrario, mi tocca fare ladder fino a mezzanotte allora Ciao Letizia Timoti lo so che gioco vuoi Allora questo tu... Oh ma che è, ma che è sto tracker? Mi sa niente cosa devo ottenere? Ma stiamo scherzando? C'è lui cosa devo ottenere? Non so, rank 7 ci sarà di meglio allora Io mi fido dai Ok, questo è meglio Ok, passo C'è strano un tuo servitore Forgiato Oddio Mi fa 4 danni sto coso quando muore Allora noi sono dopo Cioè teoricamente questa Attacco e Spacco lui praticamente Forgiato E qui di battere più tempo Deve devi si vittorine nella mano Se faccio questa invece Probabilmente è un po' meglio, no? Io farei questa Farei questa Dai Vediamo Ciao Mumak Marta com'è andata che punti delle sub? Allora Marta al momento stiamo messi abbastanza bene con i punti delle sub Adesso lo dico Siamo a 91 Quindi vuol dire che mancano 9 punti sub 9 punti sub E Twitch mi da un 10% Mi toglie un 10% in meno Da tutto a fine mese Cioè noi praticamente dobbiamo fare Marzo, aprile, maggio Con 100 punti sub E così da giugno Seppur lo si mantiene ogni mese Twitch mi da il 10%, mi toglie il 10% in meno Che non è male ovviamente Allora, io faccio all'arma Faccio a costo 3 Mando 8 Metto questa Che cazzo si fa qui Ma Provo così Dio Ma come fa a battere questo mazzo Mi cagano i ciccioni ogni turno Io non cado niente Evoca un demonio Oh, questa è bella Questa è bella Quindi un 7 7 E poi devo spaccare Ok 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 Così Non sembra male Non sembra male È intricato Ma non è mai che la salute dell'eroe sia pixelata Boh Io no Io si continua a pompare Io cosa faccio? Rubo umana qua Per forza Non c'è un momento migliore di questo Perché questo non può rifarlo? Dorme un turno Sta forza Può fare una volta per turno Va bene Va bene Va bene Ho imparato a mie spese Che con i giganti bisogna sempre attaccare In faccia Io quindi posso spaccarmi il mazzo E poi giocare questo a 0 15-15 Ha senso? E poi lo copio Altrimenti si fa questo Però insomma fare Ah no aspetta Non ce l'ho lo spaccamazzo Quindi Ah sì questo qua Sì 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 Che cazzo dico Questa Mi spacco il mazzo E poi gioco fanotte 15-15 E lo copio Poi si fa questa Poi questa Certissimo Via Dostrugge il tuo mazzo Dopo 5 turno Distrugge il tuo nemico Via Spacco tutto Che forte Ha senso farlo tradare? Ma sì che ha senso Via Ma cosa gioco dopo? Questa Poi questa E poi questa che prende Flutino Nooo Che tu sia dannato Allora Questa è questa che mi protegge E Ha senso giocare il titano O ha più senso fare reno? Devo fare il titano qui Quando mai lo posso rifare il titano Se non adesso Ragazzi vi ricordo che se il video vi sta piacendo Potete iscrivervi al canale Mettere la campanellina per le notifiche Nel caso vi siate dimenticati Like al video Questo per l'algoritmo E poi se proprio proprio volete esagerare Il commentino Benissimo questo Invito a tirare il titano di distrazione fatua Quindi o spacco tutto Oppure quelli dopo hanno taunt What's better? Sa che è meglio spaccare tutto Quindi prima attacco allora Che cazzo è sta roba? Cos'è stato? Cos'è stata sta anima? Ah no è il Ah ok Giustamente Turno in standard Guarda la gente in chat C'è la gente che mi vede Conto i turni Ok Quindi Bene ragazzi Abbiamo lui Che spacca tutto E lo obbliga poi un turno a non fare niente Ho questa qua Che mi dà Twisting Nether Se le cose si mettono male Tu farai anche questo E fare twisting Però mi sembra più forte avere La distorsione fatua Perché se fai twisting comunque Spacchi dopo Oboldino Cioè tra l'altro Qua mi conviene fare questo Però non so cosa che fa Spara il proiettile magico di questo turno Pistola di Reno Vediamo anche l'HP in realtà Pesca un seditore con scudine Un'arma Vuoi fare tutto adesso Cioè quasi fa Reno Direi no Beh io gli spago tutto Anche perché sono curioso di vedere Cosa faccia HP Pesca una carta Ma come pesca una carta Ah che sfiga Questo Questo pesca una carta Però il turno dopo E la fa altra roba Ok Lui non può attaccare Posso dare taunt ai pezzi Ok Stop Chiaramente non vado a pescare Perché è tutta fatica Tipo questo qua Cosa vuol dire sta ruota Che mancano due turni Ho vinto In flesso di danni Riviene una magia Fortissimo Fortissimo Ok Turnone sulla ledere magia Grazie Madi Grazie del Prime Justamente con quello Prova a clearare tutto Questo qua Non lo puoi colpire Non lo puoi colpire Ok Quindi in flesso di danni E lui fa due Io Ragazzi qua Quindi evoco I ciccioni E Prima di tutto Rinvengo la spell Dungard Esito Non esiste ancora Se non controlli di salitari In flesso di danni In salitari dei amici Non so se voglio fare Dungard Però Invece quattro danni Da fatica E Farò il 4-6 Ragazzi E Dungard Per quanto sia forte Cioè Oddio Lui ha modo mai di uscirne Ha già fatto il murlock Ha già fatto questa Potrei quasi fare Dungard Faccio questa lì Ma non muoio mai Faccio questa cosa Quanto ho vinto Guarda uguale Un turno dopo Mi tengo sta carta Faccio twisting nether Questo infligge Da anni Più di più di un servitore Casuale Li potenzia Cioè ragazzi Io passo un altro turno È finita la ruota E abbiamo vinto In teoria In teoria No Fammi vedere l'animazione Che poi magari Faccio pure la quest Magari avevo pure la quest Vuoi che non C'era la civ Vuoi che non c'era una civ E vinci con la ruota Eh sì Maledetto Madonna Ma facci un attimo Divertire Una volta Eri re di questo gioco Cos'è successo È successo Che non ci ha giocato Per due anni e mezzo Ragazzi Cioè Nel senso Un po' di tempo Ci vuole avere tutti Per riprendere la mano Che domande Lui è buono La quale Migliore che dava Come costo uno Quale che era Dice qua È possibile che stasera Più forte Presa da Mulligan Per il costo sei Contro warrior Vabbè Mi fido Eri demoni Tengo solo A costo due Esattamente questo Armature Armature Grazie Benveno Se vittorio Dal tuo mazzo C'è questo deve Se riesci a beccare Il 15-15 Quanto è forte Ok raga Ha bisogno fare HP o il geode Geode Pesca due Ciao Mariano Tutto bene Mi ho messo Tornato a giocare L'hubber Così For fun Per Divertirci un po' Allora Quindi si pesca Geode Gioca questo Vai Un po' si tirerà questa Cioè A me serve La costo otto Va contro Contro Il V L'altro armature Cambiata in questo turno Pesca due Carte Che forte Allora ragazzi Warrior come li leva i pezzi Vabbè dai tiro questa Già è scaricato Grazie Faregname Ecco Ecco come li leva Ottimo Sembra Non è cambiato niente Vedo Allora Stiamo Io posso fare Questa Per poi fare Questa E sdoppiarli Bellissima Questa qui Quella facciamo Devo fare anche Loken Potevo fare la costo Tre Prima Di far La costo Quattro Per averne Due Oh nice E sussurri Non riesco a resistere Ma che è Ma che è giocata è ragazzi Due Due Trentatrent Cioè Due Quindici Quindici A turno Sei Sento Mata Una sola Cosa Per Cadete Di battaglia Settino Deve Per Sto Partito Bello Però Allora In questo momento Non so neanche se voglio tirare Ruota Della Morte Ha quasi più senso pescare Attaccare Diretto Occhio a leggendaria costa 8 Cosa fa Cosa fa la leggendaria costa 8 Armor uguale attacco Ok Ma Non so Vogliamo pescare con Con l'HP Facciamo questa Ziliax Ah ecco cosa faceva Ottimo Reno pure io Cigante Vabbè ragazzi Gioco a ruota No C'ha 5 tuni per vincere Abbiamo la sinfonia dei peccati Reno Doppio twist in nether Va bene Qua fa 10 danni Sta provando a non farmi curare E ci sta riuscendo Vabbè Voglio dire che qua si fa rino Non so bene cosa aspettarmi Se conviene aspettare a far rino Conviene a fare questa Lui ha 11 Dovevo tenere Ziliax Sì perché mi tornava Avete ragione Quindi se faccio rino Tanto con Odinti Killa di armor Quindi si fa rino qua Ok Più probabilmente Si farà questa Capì Sperando che non sia Pesca 1 Pesca 1 Grande Ok Ornisce 4 l'armatura Ci piace Di battaglio Tieni 2 tentacoli caotici 1-1 Passa Beh allora Io direi che Sinfonia dei peccati Si può tirare Facciamo questa Ah dio Mica Sti tentacoli Fanno questi effetti Cosa fa Odin Ragazzi E lui può avere 11 carte in mano Poi Oddio Doomguard Che sta succedendo Che cazzo è Cosa è stato Cos'è lo scatolone Prendi questo E questo Oddio Allora Questa cosa fa Pesca 1 Evoca Vabbè faccio Twisting Nether No Gli è uscita una roba Con stealth Io non ci voglio credere Io non ci voglio credere Allora Quindi adesso Mi faccio Una cosa che mi viene in mente Che posso farmi Tirarmi un HP addosso Così con l'arma Mi guadagno 2 viz Emo che mi fa Ho 9 danni così Ma ha vinto solo con l'HP O sbaglio Dove fare HP In tuo HP Ha vinto In teoria No Sei tirato Da solo Mi sta biemando Non ci crederà nessuno Vai mollare Cosa Cosa Ha misclicato Il versore dell'HP Ma serio Cosa Non ci credo Ma Ma lo sa che l'HP Che gli tornava Ma scusate L'HP che gli tornava Non era da due danni di Reno Cioè Non sapeva che avrebbe chiuso Lui secondo me Pensava che gli tornasse l'Armor Di nuovo Warrior Vabbè questa sia Top card Ma Vabbè chiaramente questa Che era in fondo al mazzo Tra l'altro Quindi auguri a trovarla Tap Salve tizio Ecco una cosa Che non riesco a fare È tornare in realtà Avendo perso Non so quante espansioni Ma Sì Che si va Cazzo l'ha messa l'Armor Ah Questa Vabbè ci sta a fare questa Tra l'altro Sventurgufo Turno 6 Forte Perché Dobbiamo fare la ruota T8 Abbiamo Ziliax Abbiamo questa Dobbiamo semplicemente Fare la ruota in curva Ragazzi Ma è lo stesso di prima Ok Passiamo in questa Non è lo stesso di prima Ritorno su ladder Ogni tanto Dai Mi fa qualcosa di diverso Cosa di diverso ci sta Allora Via Questo Olè Doppio T8 Vediamo come risponde A questa giocata Ma cosa fa Odino Che non abbiamo visto ragazzi Cioè qualcuno mi riesce a dire Cosa fa Odino Sennò me la devo cercarla Odin Airstone Battlecry Per il resto del game Quando il tuo eroe guadagna armor Prende attacco per quel turno Ah ok Però non è Quando lo guadagna quel turno Ok Non è che se c'ha 16 di armor Piazza sto coso C'ha 16 di attacco Prende attacco Se lui gli mette armor Giusto Cioè da comorolette è così Ma questo tempo così naked è devastante Cioè È campo vuoto Oggi ho visto il video di pokemon Sarebbe bello ne portassi altri simili Tipo pokemon roguelike O infinity fusion Eh si potrebbe fare Potrebbe fare Io ragazzi Adesso gioco doppio 15-15 No qua Cioè lui non è che adesso Lui mi gioca Mi gioca a quella carta E C'ha 20 di attacco lui Cioè sennò sarebbe tipo Assurda Cioè è forte ugualmente Però non fa Non è così Non è quello che fa Allora quindi vabbè si spacca tutto No qua Iniziamo Tanto abbiamo zilex Ma costa 5 Via Forse potevo posizionarli meglio Ok Ma che carta è? C'è altro che brawl Comunque l'ammetto Ruota meccanica figa Eh ci sta Ci sta Posso spaccare quello Con zilex Mi guadagno 10 armor Però non so Vogliamo farlo Vogliamo realmente farlo O tanto vale fare lui E rubargli E' molto più forte lui Perché gli rubo un cristallo Così non fa il costotto O il 9 Non so cosa voglia fare E quindi facciamo Evoca una copia Di subito Tanto potrei fare anche doppio zilex Ma noi abbiamo fretta No che non l'abbiamo fretta Ah questo C'ha 4 di vita Lui adesso Non c'ha più 3 di vita Oddio E allora Quindi Vabbè Allora faccio zilex Non trado con zilex Tanto qua è Però volevo fare Questa era bella da fare Vabbè posso fare Questa più defile anche Più questo Questa più defile Tanto è difficile Che lui giochi più di un pezzo No? Ma se gioco semplicemente No vabbè Ci sta a fare questo Oh io ho millato Dino Io ho millato Dino Eccolo qua Eh già Eh già Mai giocare a covito Quando avevi capito in mano Grazie Vai facciamo l'ultima Certo che però Mi concedono Ragazzi Mi concedono Quando io sto per fare L'achievement Non sono riuscito a vincere Con l'effetto di ruota E concedono sempre prima E concedono sempre E concedono sempre a vincere